Una giuria volante con Mantoni e Filogamo compie per conto della RAI un giro d'Italia dedicato ad un simpatico reclutamento di forze radiofoniche. Il microfono è vostro, eh sì, una tradizione leggera, però può diventare, per alcuni, forse per lei stessa, il trampolino di lancio verso la celebrità. Il microfono è vostro, rassegna del direttante diretta da Riccardo Mantoni. Presenta Nunzio Filogamo. Forza ragazzi, dice l'invito di Filogamo, come la giustizia il microfono è uguale per tutti. Fatevi sotto! Vieni, c'è una strada nel posto. 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 Vecchia squadra con i ricordi non ci lasciò. Il microfono è vostro, senza limiti di età né di specialità. Canto, lirica, dizione, musica e poesia. Ma il bimbo disse, ho tutto, ho la mia mamma. Giusto, lui ha la mamma e un microfono anche. Che bella poesia che mi ha detto. Centinaia di volontari, qualcuno entrerà in servizio permanente.